L'episodio si apre con ciccio e pasticcio che diventano ancora più scemi di quello che già sono per cercare Adrian quando basterebbe invece aprire le pagine gialle e cercare tutti gli orologiai ma poi ci arrivano tranquilli, ci mettono solo un po' e noi scopriamo che le due vezze rincoglionite, oltre che la guida spirituale di Adrian sono anche le maestre che l'hanno addestrato nell'arte del combattimento anche se lui è contro la violenza ok allora perché hai accettato i loro insegnamenti? e mentre nei mari ci sono ancora barconi pieni di clandestini ebbene sì, nemmeno fra 50 anni ci saremo liberati di questa piaga porcaccia ad una miseriaccia Adrian sorseggia litri di caffè e tromba, ovviamente e si presenta in una cantina dove qualcuno ha organizzato un incontro per gli amici dell'orologiaio e sono talmente amici e lo conoscono talmente bene che anche se dicono di averlo visto, nessuno lo riconosce ma come? dei brutti ceffi però, che assomigliano a Degliare Krishna, hanno posato gli occhi su due tizie e proprio mentre si sta per consumare una violenza, ecco che arriva lui il giustiziere della notte una specie di Batman poeta con la maschera da volpe che pesta i brutti ceffi sui passi della musica di Zorro e infatti volpe in spagnolo si dice proprio Zorro ma guarda te che genialata e le tizie spaventate si muovono all'indietro cioè hanno montato la scena al contrario per ben due volte ma perché? e come se non bastasse l'ombra di Volpe Man si muove di sua sponte facendo continuamente movimenti diversi da quelli del suo proprietario e così dopo che il non violento ha massacrato di botte tutti senza riportare nemmeno un misero graffietto era da solo contro quattro, ricordiamolo pronuncia la fatidica frase che ha mandato in tilt tutti gli intelligentoni del web quelli che vedono il marcio anche dove non c'è se aveste bevuto qualche bicchierino in meno forse avreste evitato l'increscioso approccio con dei tipi così poco raccomandabili e fioccano i tweet inferociti ma quale cazzo di sessismo? ma quale cazzo di victim blaming? ma lo conoscete il significato delle parole che usate? e soprattutto l'avete visto bene l'episodio? o commentate solo perché vi siete auto investiti del lusso di scrivere senza collegare prima il cervello? cercherò di essere breve perché vorrei rimanere entro i quattro minuti nella scena al bar si vede chiaramente che i balordi mettono delle pasticche nelle birre e adrian li osserva in silenzio mentre lo fanno e siccome sti tizi vanno più volte a infastidire le tizie è plausibile da parte sua supporre che queste tizie abbiano bevuto delle birre drogate le tizie però non si vedono mai bere ma la cosa è suggerita d'altronde questo cartone è pieno zeppo di tagli inspiegabili errori di montaggio e scene ripetute al contrario le ho anche mostrate prima perciò magari sta scena l'hanno tagliata magari non l'hanno mostrata per chissà quale motivo ma era sotto intesa ho bevuto troppo domani avremo un bel mal di testa quindi prima di commentare e gridare allo scandalo forse dovreste farvi un'attacca al cervello e lì sì che i risultati sarebbero scandalosi comunque tizi che sembrano sapere qualcosa sull'orologiaio vengono pestati ci sono poliziotti che indagano giornalisti che indagano il cantante dei Negramaro del futuro che va in tv a dire qualche stronzata Gilda la ninfomane mette mele biologiche in mezzo alle mele non biologiche del supermercato e stiamo parlando di mele il frutto eh non le sue e poi a Ginevra i capoccia di una ditta di orologi mettono una taglia di un milione di euro sulla sua testa per spingere la gente a trovarlo per loro e farne il loro testimonial Adrian però non sembra preoccupato perché come al solito nessuno è in grado di riconoscerlo boh nemmeno sto sboccato poliziotto barbuto e nerboruto che è sempre accompagnato da una massaia e boh un tizio che si mettono a pestare senza un motivo un immigrato uscito da un tombino ma tanto a difesa dei più deboli c'è sempre lui il giustiziere Volpeman che nel frattempo è diventato pure esperto di ninjutsu e gli emena a tutti in tre secondi fine ma continua purtroppo grazie a tutti